Nel corso di servizi antidroga disposti dal questore di Messina, la squadra mobile ha tratto in arresto un messinese di 34 anni, già gravato da specifici pregiudizi di polizia. I controlli in particolare hanno riguardato la zona di Mangialupi, dove sono stati predisposti discreti servizi di osservazione anche nei confronti di soggetti già noti agli investigatori. Gli uomini della mobile hanno riconosciuto un soggetto già noto negli ambienti dello spaccio uscire velocemente dal portone di un condominio con un borsone sportivo e salire a bordo di uno scooter. Insospettiti, gli operatori hanno intimato l'alta all'uomo, il quale, nel tentativo di guadagnare la fuga, ha proseguito la marcia a tutta velocità, investendo i due poliziotti più vicini per poi rovinare su un'auto in sosta. Riportata la situazione sotto controllo, gli agenti hanno rinvenuto all'interno della borsa 5 kg di hashish confezionati in panetti e 200 g di cocaina pronti per essere messi sul mercato, dove avrebbero fruttato diverse decine di migliaia di euro. Dopo i controlli medici del caso per agenti e pusher, quest'ultimo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio, violenza e resistenza pubblico ufficiale, accompagnato su disposizione dell'autorità giudiziaria al carcere di Gazzi.